Cari amiche e cari amici, abbiamo visto la passione di Bede Griffith per l'Advaita Vedanta e di come studiando l'Advaita Vedanta con i grandi intellettuali indiani, con grandi maestri, con grandi guru indiani e quindi praticando direttamente la meditazione non-duale, ecco abbiamo visto come Bede Griffith si intuisce che c'è la possibilità di un cristianesimo advaita. Il problema era legato all'aspetto teologico perché dal punto di vista teologico anche nell'esperienza unitiva, nella unione mistica tra l'anima e Dio, questi restano distinte, invece nell'esperienza dell'Advaita Vedanta ma anche nell'esperienza del buddismo c'era una totale fusione con Dio. E quindi la differenza tra il divino e il mondo, tra Paramatman e Jimmy Vatman, cioè tra Paramatman l'essere supremo e G. Vatman l'essere individuato, ecco, nell'Advaita si annientava questa differenza. E quindi qual era il rischio che vedeva Bede Griffith dalla sua prospettiva cattolica e cristiana? Il rischio di questa interpretazione dell'Advaita estrema che relativizzava in maniera eccessiva il reale, sottovalutava il reale. Non è un caso che Griffith poi vede in Shankara, in particolare, questa posizione radicale. Shankara è il filosofo del nono secolo, il grande commentatore dell'Advaita Vedanta, quindi in un certo senso è il fondatore anche dell'Advaita Vedanta. E in Shankara, nei suoi commenti, c'è questa visione per cui ogni differenza deve scomparire nella esperienza della non-dualità. Ricordate, l'ho citato in molti video, c'è il berrimo esempio di Shankara, la corda e il serpente, no? La visione distorta che scambia la corda e vede un serpente, no? Maya, no? Ne ho parlato in altre playlist sull'Advaita Vedanta, quindi vedete lì, sarà approfondito questo esempio. Adesso giusto per citarlo, per gli amici che mi seguono. Quindi, ecco, Shankara per Bede Griffith aveva un'interpretazione dove si annullava, in fondo, l'anima con Dio, perché Shankara dimostrava l'irrealtà del quello che ordinariamente si percepisce come mondo reale, dunque del cosiddetto mondo reale. Il mondo delle esperienze, il mondo delle differenze, era visto da Shankara come un errore conoscitivo, nel senso che l'uomo, soggetto a Maya, soggetto dunque all'illusione e a questa deformazione di percezione, divideva il mondo in due. C'era una sovrapposizione illusoria su una realtà che fondamentalmente era non duale, invece c'era una sovrapposizione duale. Questo è quello che si ritrova poi nell'essenza nei commenti di Shankara. E dunque, sempre in Shankara, che cosa accadeva? Che quando l'ente, quindi quando ciascuno di noi, per capirci, un praticante, si risveglia durante una ferrea disciplina mistica, che cosa accade? Cadono i diaframmi, cioè il risveglio comporta la perdita dei diaframmi, la visione diretta della realtà, l'evaporazione di Maya, potremmo dire, e dunque l'immersione definitiva nel Brahman come unica realtà. e scrive Griffith. Ora vi leggo proprio le sue parole, da un suo saggio. Nel Vedanta si solleva sempre un problema. Se il mondo è reale, non può essere distinto da Dio, cadendo nel panteismo, che è affermare che il mondo è divino. Oppure, come fa Shankara, volendo essere determinati a preservare la purezza della natura divina, si è costretti a negare la realtà del mondo. In parole più semplici, il panteismo che è vedere Dio in ogni cosa, dice che il rischio del Vedanta è questo, cioè che se nulla può essere distinto da Dio, Dio e le cose che ci circondano, il mondo, la materia, tutto, coincidono. Non c'è alcuna differenza tra Dio, la materia, le anime, noi e così via. Oppure dice, secondo la visione di Shankara, per preservare sempre la purezza del Brahman, si nega la realtà del mondo. Quindi si dice, no, questo mondo è irreale. Quindi, da una parte, una scuola Vedanta dice, Dio è il mondo. E non c'è distinzione. E dall'altra parte c'è un'interpretazione più legata a Shankara, che dice, no, questo mondo in realtà è irreale. Quindi tutto è Brahman, ma perché questo mondo è irreale. Che ecco, da queste due riflessioni, già vediamo che Griffith cercava di rispondere a due questioni fondamentali. la relazione con Dio e la realtà col mondo. Perché questo era dei risvolti teologici portentosi. E da queste riflessioni nasce poi il passo successivo, ossia la visione di Griffith del Vedanta cristiano, dell'advaita cristiano. E allora ecco, Griffith, e qui riemerge la teologia cristiana cattolica, sostiene che la relazione tra anima e Dio non può essere di totale identità. Quindi non ci poteva essere, nell'interpretazione di Shankara, presa in toto, nell'altra interpretazione. Quindi la relazione tra l'anima e Dio non può essere di totale identità. per cui l'anima subisce la completa perdita di sé nel divino. E' anche quello che accade nel buddismo, nella concezione del nirvana, no? E l'uomo, quindi, nella visione cristiana, doveva rimanere inevitabilmente distinto da Dio. perché questo è l'insegnamento poi della teologia cristiana. Quindi non ci poteva essere una totale dissoluzione nel Supremo. Per gli hindu, per i buddhisti, lo Stato Supremo era proprio questa assoluta identità, presa sia in interpretazione, come dicevano Dio è, nel caso del Vedanta, Dio è il mondo, o nel caso di Shankara, il mondo è illusorio. Ma sempre c'era questa totale identità, così come nel nirvana buddista. Proprio perché lo Stato Supremo, il Brahman, la realizzazione, è l'assoluta identità col Brahman. Dunque l'uomo realizza questa identità e realizza che questa identità è eterna ed immutabile. Ma nella visione cristiana l'uomo deve restare distinto da Dio, perché è una creatura di Dio. E allora il suo sollevarsi e partecipare alla vita divina è un atto della grazia di Dio, un gesto gratuito di amore di Dio. E questo si concilia con la teologia cattolica e con la teologia cristiana in generale. Per cui Dio riversa la sua grazia discendendo nel cuore degli uomini a scopo di sollevargli fino a fargli condividere la sua sapienza, una vita eterna che è fatta di amore e conoscenza. E in questa unione l'uomo realmente condivide la conoscenza e l'amore di Dio. e conosce se stesso nell'identità con Dio, ma attenzione, ne rimane distinto. E questa identità è una comunione, perché la comunione ci deve essere forse il due, però è una comunione di conoscenza e di amore. E mai identità di essere. quindi, vedete, è profondissimo il ragionamento che fa Bede Griffith rispetto a questa, no? E allora ecco che questa distinzione di fondo si può far risalire ai differenti concetti di interiorità di induismo e del cristianesimo, perché per gli hindù l'interiorità consiste in un progressivo distacco da tutti gli oggetti interni ed esterni, quello che facciamo noi quando meditiamo, no? Noi ci distacchiamo perfino dal nostro pensiero. Osserviamo e basta, distaccati da tutto, lasciamo l'accadere delle cose. Però, Griffith diceva, no, l'interiorità per i cristiani deve iniziare sempre col pentimento. E quindi scoprendo l'abisso che separa l'anima da Dio. E attraverso questa scoperta del peccato, che non è altro che la separazione da Dio, dell'abisso che separa l'anima da Dio, che l'uomo può ritrovare e riscoprire l'amore di Dio. Un amore che attraversa e penetra perfino nell'abisso. E così ecco che l'anima nell'abisso interiore del suo essere si ritrova di fronte a Dio nell'abisso del suo essere. E Griffith enfatizza l'aspetto dell'amore in cui sono coinvolti conoscenza e relazione. E questa unione è del tipo goccia e oceano. Potremmo dire che per Griffith la goccia pur confondendosi che nell'oceano non resta sempre goccia. Invece per la concezione hindu e buddista una volta che la goccia entra nell'oceano è oceano. E quindi ecco capirete che per il suo impegno cristiano Griffith deve mantenere il mondo come reale. Questo proprio per restare fedele alla teologia cattolica e non cadere in concezioni legate al panteismo. Bene, arrivati a questo punto amici riprendo la lettura diretta delle alcune interviste di Griffith ed esattamente come l'altra volta lo leggerò in prima persona come se riguardasse me per evitare questa monotonia della lettura. Allora eravamo rimasti a Griffith che esaltava le Upanishad e diceva che noi abbiamo la grandezza delle Upanishad e le Upanishad devono essere conosciute e che diceva chiunque si occupa della realtà e della verità deve conoscere le Upanishad e allora e qui ripeto è Griffith ma parlo in prima persona dovete conoscere le Upanishad perché oggi sono facilmente reperibili non ci sono scuse le Upanishad iniziano proprio con l'universo dei sensi la sofferenza l'esperienza umana della sofferenza e un po' alla volta penetrano nel mistero trascendente quella realtà che non si può nominare perché non esiste nessun nome che può esprimerla e questo è un punto molto difficile molto difficile dal punto di vista concettuale perché finché le cose hanno un nome e queste appartengono al mondo della ragione e dei sensi e allora ci sentiamo a casa perché per noi se parliamo degli oggetti che ci circondano se li nominiamo gli oggetti che ci circondano per noi è tutto facile è la nostra dimensione il nostro linguaggio abituale con cui distinguiamo le cose ma come fare quando iniziamo a dover descrivere una realtà che non è descrivibile con le parole quando tocchiamo una realtà che non può essere descritta e definita da nessun nome e qui forse ci viene in aiuto Sant'Omaso Sant'Omaso d'Aquino il grande Sant'Omaso d'Aquino che diceva che non si può dire quid est Deus cioè cosa è Dio non si può dire non si può definire quid est Deus cosa è Dio perché il mistero divino va oltre il nome oltre la forma oltre il pensiero umano e allora ecco perché l'Advaita Vedanta ci può essere utile a noi cristiani perché attraverso l'Advaita Vedanta noi possiamo superare i nomi e le forme l'Advaita Vedanta agisce sul cuore possiamo aprire il nostro cuore al mistero divino che resta sempre un mistero resta sempre un mistero e non puoi dargli il nome proprio perché è un mistero non lo puoi mai conoscere interamente non lo puoi descrivere ma lo puoi percepire lo puoi percepire nel cuore e in India nel sesto e nel quinto secolo avanti Cristo questo fecero alcuni maestri grandi risci sentirono questo mistero nel cuore e lo chiamarono Brahman Brahman che parola magnifica non significa una cosa sola la radice la radice brrr significa crescere accrescersi anche gonfiarsi e è legato all'offerta sacrificale che era l'elemento centrale dell'intero culto sacrificale induista si accendeva in un fuoco saliva verso il cielo e si offriva tutto quanto il fuoco cresceva ecco il dio del fuoco brrr crescere gonfiare il fuoco diventa enorme va verso il cielo è il messaggero degli dei e trasporta tutto quello che è bruciato nel fuoco verso la maestà del cielo e il sacerdote offriva il sacrificio brrr e il fuoco cresceva brrr e lui diceva Brahman Brahman ecco l'universo intero la forza del sacrificio è quella dell'universo intero perché il pensiero antico riteneva che il sacrificio fosse l'essenza del mondo sacrificare vuol dire sacro un facere fare qualcosa di sacro e anche rendere sacra qualcosa e noi sappiamo bene in occidente quanto abbiamo desacralizzato le cose quanto nulla è più sacro per cui non resta nulla di sacro sì esistono dei santuari dei luoghi che le persone vanno in pellegrinaggio a visitare ma nel comune sentire la sacralità è perduta non esiste più invece nel mondo antico collegava il mondo del tempo dello spazio della materia alla realtà trascendente pensate che meraviglia e allora che voleva dire rendere una cosa sacra fare un sacrificio dunque esporre quella cosa al divino donarla al divino e in questo renderla partecipe della dimensione del trascendente e allora capirete che tutto deve essere sacro in questo modo e ancora oggi se andate in India questo non si è perso mangiate bevete vi fate il bagno tutte azioni sacre esattamente come nell'antichità c'è un'usanza induista che non sempre si segue però è molto diffusa si prende una foglia di banano si riempie di riso di cibo poi si cosparge d'acqua la zona intorno perché così si crea un posto sacro e in questo modo si tengono lontane tutte le forze demoniache tutte le forze contrarie e l'acqua sacra che purifica lo spazio e allora ecco il cibo è un'offerta al divino ed è il divino che consuma gli alimenti nel vostro stomaco è il divino e questo cibo viene sacrificato ossia viene offerto è lì che sacro un facere il cibo è reso qualcosa di sacro e quando tu lo mangi ti stai nutrendo di qualcosa di sacro e ti stai unendo con Dio e allora ecco la grandezza della tradizione antica della tradizione vedeva il mondo come sacro nell'essenza tutto era sacro di conseguenza tutto doveva essere consacrato a Dio perché a Dio apparteneva e quindi veniva collegato alla realtà trascendentale poi fra VI e V secolo a.C. si superarono perfino le divinità gli spiriti le forme esteriori di cui era intrisa anche la mitologia indiana ed ecco che si scopre la realtà senza nome adva itala una realtà non duale quella realtà senza nome e senza forma che chiamarono Brahman o Atman ma attenzione perché anche il buddismo ha qui un messaggio meraviglioso per tutti perché Buddha demolì questo mondo fatto di sensi di passioni di attaccamenti di desideri e sacrificò anche lui tutto questo nel brrr nella grandiosità del fuoco che cresce verso l'alto che partecipa alla realtà metafisica il sacrificio del fuoco e in questo sacrificio Buddha scoprì il nirvana questa gioia pura questa realtà che è oltre il mondo ed oltre tutto e che gioia aver trovato il nirvana che gioia aver trovato la strada oltre la sofferenza la via di mezzo oltre il due bisogna superare l'universo dei sensi per penetrare in questa realtà fatta di sacci tananda eterna beatitudine conoscenza felicità al di là del tempo e dello spazio andare oltre l'intero mondo conosciuto dalla scienza comprendere la realtà che si riflette anche in questo mondo della scienza ma che lo trascende infinitamente ma dobbiamo essere in grado di superare il tempo e qui c'è un problema perché in India si tende a dire che il Brahman è reale mentre il mondo non lo è perché è un'illusione è maia tutto è illusione allora questo tavolo quella sedia voi che mi ascoltate io Dio qualsiasi forma qualsiasi Dio è tutto maia un'illusione ma questo approccio negativo può essere mazzano per i cristiani però ho studiato Shankara in modo approfondito e ho visto che questa in realtà non era la sua concezione advaita la sua concezione non duale perché secondo Shankara il mondo dei sensi l'intero mondo fisico non ha realtà in se stesso ma ce l'ha in relazione al supremo in relazione al brahman quindi è in esso e non in noi stessi che abbiamo realtà verità gioia e appagamento quindi Shankara affermava davvero che il mondo ha una realtà solamente relativa ed è interessante perché se è andata ad approfondire Tommaso d'Aquino l'insegnamento di Tommaso d'Aquino vi renderete conto di quanto è simile all'insegnamento di Shankara e arriverò a dire che gli autentici insegnamenti di Shankara se compresi a fondo sono identici a quelli di Santo Tommaso d'Aquino che il mondo non esiste assolutamente in se stesso ma solo in relazione con Dio con Dio con l'Eccelso ma come si impara ad accettare questo mondo non dobbiamo negare il cosmo ma non dobbiamo negare neanche la nostra famiglia la nostra casa il nostro giardino il nostro lavoro sono tutte cose reali ma non lo sono in se stesse e quando vediamo quelle cose come reali in se stesse ecco che diventiamo idolatri perché pensiamo che la realtà è tutta lì se io mi convinco che questo tavolo è reale in se stesso sto lì ad esaminarlo ma il tavolo non ha realtà in se stesso la realtà esiste solo dentro e attraverso Brahman Brahman è l'unica realtà che si manifesta in tutte quelle forme diverse le forme continuano a andare a venire a cambiare ma in esse si manifesta l'unica realtà l'unica parola l'unica verità Brahman e questa è stata la svolta attuata dalle Upanishad e da Buddha nonostante fosse arrivata in India e ci viene dall'India questa conoscenza si rivolge a tutti noi anche a noi cristiani a tutta l'umanità noi ereditiamo il messaggio del Vedanta noi ereditiamo il messaggio di Buddha e dell'Upanishad e questo è straordinario ed è magnifico che l'Occidente possa beneficiare di questa sapienza la sapienza della Bhagavad Gita del Dhammapada dell'Upanishad è la nostra sapienza un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo Cosmo